Ciao, buongiorno, la classe di oggi facciamo un po' di vocabolario vocabolario sull'abbigliamento da uomo allora iniziamo con l'abbigliamento da uomo abbiamo la camicia, la manica, il colletto, la tasca la camicia, questo si chiama la maglietta, i pantaloni, vedete ha un plurale sempre quindi i pantaloni, i jeans, i pantaloncini, il cappello, il cappello, il cappellino la cravatta, il nodo, il nodo della cravatta la scarpa, il laccio, plurale, i lacci possiamo dire in due modi, il laccio, i lacci, la suola la scarpa da ginnastica o le, plurale, le scarpe da ginnastica lo stivale, plurale, gli stivali abbiamo la cintura la cintura la fibbia il bottone la chiusura lampo la lampo o la zip sono tre modi di dire la chiusura lampo la lampo la zip il sandalo o i sandali l'abito da uomo possiamo dire il completo o l'abito da uomo il gilet il gilet lo smoking il fiocco o il papillon poi abbiamo la biancheria intima la biancheria intima si divide in le mutande i boxer il calzino plurale i calzini l'accappatoio l'accappatoio la pantofola la pantofola l'infradito vedete per questo si chiama infradito e ripetiamo il sandalo plurale i sandali ciao alla prossima